Governare le grandi aree urbane non è mai stato semplice, ma in tutta Europa le sfide che attendono gli amministratori locali nei prossimi anni sono ardue ed epocali, perché spaziano dalla crisi climatica alle conseguenze economiche e sociali della guerra in Ucraina e dei flussi migratori. Se ne è parlato nella sede della città metropolitana di Torino nel corso di una tavola rotonda organizzata in collaborazione con la rete europea EMA, European Metropolitan Authorities, e con l'AMB, l'autorità metropolitana di Barcellona, in occasione del forum delle città che si è tenuto a Torino. Un approccio volto soprattutto alla creazione di reti di governance multilivello che vanno a coinvolgere diversi attori. La complessità e la sfida più grande è proprio quella di tenere insieme un territorio non forse vastissimo al punto di vista di chilometri, ma certamente vario e variegato con i suoi oneri ed onori in questa direzione. La città metropolitana ha deciso di assumersi la responsabilità di svolgere un ruolo importante, sia soprattutto nella direzione proprio dei territori, dei comuni, di fare da azione di coordinamento, e infatti si è dotata di un'agenda metropolitana che ha proprio delle direttive che fanno parte del piano strategico. Quindi l'ambiente, la sostenibilità ambientale e l'agenda metropolitana è il piano strategico di città metropolitana, e quindi siamo orientati assolutamente a dare delle indicazioni ai nostri comuni e le sfide sono tantissime.